Scoperi Croc and Tartle, piccole tartarughe, giovani coccodrilli da crescere Rompi l'uovo e trovi i tuoi dolcissimi cuccioli Poi mettili in acqua e cresceranno davvero Prenditi cura di loro e crea la tua famiglia Tartarughe o coccodrilli, in edicola Sada! Extreme Ball, la sfida è cominciata Lanciala sull'acqua, falla rimbalzare Altissimi rimbalzi, criteri performanti Gioca con i tuoi amici, non ti può annoiare Extreme Ball, divertiti con Extreme Ball In edicola Sada! Diventa un campione di bolle giganti Con Sbubble è facilissimo Premi il pulsante, apri le ali dello Sbubble E fai la bolla più grande del mondo Gioca e divertiti con Sbubble bolle giganti Insieme ai tuoi amici Corri in edicola, è un prodotto